ancora Maio stavolta Scocchi non si inserisce può provare però da lì grandissimo gol di Scocchi da fermo da distanza veramente siderale pesca il giolli Gabriele Razza non può nulla Scocchi show in questi primi sei minuti e mezzo due a zero Barlala la tocco piano diceva la giallappa sta centrato l'incrocio dei pali senza rincorsa veramente gran battuta col destro del capitano del Barlala e adesso grido libero chiamata a reagire Grazie a tutti